Ancora una volta da parte nostra un messaggio chiaro e netto. Massima attenzione alla legalità, al rispetto delle regole, alla tutela della trasparenza e della concorrenza. La firma del protocollo di legalità venuta ieri in prefettura è un ennesimo tassello di un percorso che ci vede tutti quanti impegnati nel prevenire infiltrazioni della malavita o della mafia all'interno delle procedure pubbliche e soprattutto quelle che riguardano gli appalti di lavori o servizi. Io ringrazio ancora una volta il prefetto Valiante per la grande sensibilità, l'attenzione e la tempestività con la quale riesce a coordinare i sindaci della BAT e a garantire non soltanto unità di comportamenti ma anche e soprattutto rafforzare lo spirito di sinergia che ci ha accumulato in questi anni. Su questo terreno non si accettano compromessi ma la scelta deve essere sempre chiara e netta. Noi siamo dalla parte di chi rispetta le regole e questo protocollo ci consentirà di implementare le misure di vigilanza che sono già previste per legge ma di estenderle in maniera importante e più pervasiva all'interno delle procedure di evidenza pubblica e di garantire anche ancora una volta il rispetto delle regole in materia di diritto del lavoro e dei lavoratori soprattutto.